bene abbiamo il video scusso il pubblicitario del studio di telegi una bella televisione buona giornata sempre presente ed io sono contento veramente sia per la televisione sia per la gente che non si abbaida che non si può abbaidare se che è fuori d'estate e non si può abbaidare però se questo è fuori continente noi vediamo tutto il mondo in treo ti invito a fare scusso di bornarueo per l'abbaidare www.tlg.tv e non chiedete tutti su telegiornale che vagano ogni giorno che per sempre è presente e cosa chiedete pure su telegiornale vi chiedete però sinceramente bornarueo in diretta come non vi dite come a mezzanotte a mezzanotte a mezzareplica che la mandano a su telegiornale fino a san mercoledica però vado a salutare uno che mi ha telefonato all'ospedale sono andato alla cattare la rintu viga qui ti hanno scelto all'ospedale come te prima sinceramente ti abbraccio a te e tutta la famiglia e tutti i suoi chippi che veste in questo ospedale buco ciao la rintu bene vado un'altra telefonata e noi la leamo e intendiamo schieste pronto pronto buonasera buonasera e intanto come ti andiamo su bene e tu e io mi sono influenzato su però adesso riusciva che andà bene eeeh piano piano non ti ha proponuto so che... posso salutare con questi due cantatori che ho su... no no scusa e andami che sei prima che sei se ingrati che non ti ha proponuto Eh, i noche, i noche, da chi conosco tutto tu, i tuoi, i tuoi, i tuoi, boh. No, a te non tu sei denne, che hai nessun nome, semplice una bemmina, si. Ah, ecco, l'ha comprisa. No, ma lei l'ha comprisa, che esese, però, scusa. Comunque chiedo salutare a Tonio Carai, io, io, ho compriso, che eso. Ma se l'ha compriso, io devo comprare a te, pure, però. Grazie, grazie. Chi è questo Tonio Carai? Chi è? 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 Chi è sempre Conte, li ha chiesto di salutare. Eh, cioè tu sei su Tonio Porco, però, ti è approfondimento. Ehhμέ, fregato so', sial. Ma mio Salto. non mi vale l'Antonio Porco mi vale però no vabbè di un uomo l'ha provato ciao Antonio Antonio mi raccomando comportate va bene a mano seminoso Antonio grazie complimenti anche agli strumenti buon proseguimento grazie a tutti vi ascolto finché ne ho voglia scusate le colpe che ti ducce ma bene saluto a tutti ciao Antone ciao ciao Antone voi siete un altro cantante bravissimo Antone la popolazione non è andata via non solo in televisione la popolazione è andata in South Park in tutti i due sinceramente vedendo tanto con Don Abratti ogni 30 mano ciao Antone però su 10-23 per la tua serata si trattano a tre attorcivico ben ad una però cosa comincia e poi con lo motivo mi ha appena un'altra la mia madre e se sti burro sono n no ma tu ne ho caduto e bestiavelo hanno bisogno le macchine ah ecco t'hanno sesso in Italia di noi noi hanno di altri altri a tutti per comprare bene abbiamo un'altra telefonata e noi la leamo pronto? pronto buonasera ehi caspì andi giù per le pavvella stasera e beh non riesci a scaricare e ti minano il tanno Mario ehi che dinaro Antonio Porco è il faglio del staccone ma da che bestia è messo però ti do a far rogare mai su ehi gli ha triulato tutto ehi vedete mi la Mario a farlo c'è lo amo sapete che figura a pagher eh bravo ecco eh stai facendo il sbaccone questo è il tuo osso pesati ahhh Giuseppe Contini di Porticali buonasera Giuseppe Contini di Porticali lo conosco dai mei dai prossimi questo è il disunio esatto il disunio buonasera sei due di Santa Maria cuina eh sei un'altra zona di Olbia di Olbia bravissimo ti fatto me la complimenti mi hanno fatto il complimenti Antoni Masia ormai è il bezzio è il bezzio è il bisalmonicista è il bisalmonicista ma te tanto augurio da tutto e buonasera bravo Mario saluta Furica aspetta che te la saluto la sua eh va bene grazie ciao e buono proseguimento a tutti ciao ciao Furica in Urfi ciao Alfredo buonasera e grazie per il segnale battito tu e Zichi gli stanno facendo di abbe esatto lo dai lo dai lo dai Antonio buono 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 e io saluto i tuoi presentatori siamo un vero e mi piace troppo c'è al vero oppalla è che duri grandi non ti chiamo la pietrina a me da quando mi hai dato l'abbraccio dai vatteni e a pietrina e occhi e a tutti che sono i contelli ehi, ti ringrazio buon'icca ehi, e fa che mi sono augurio pure all'arentururica che io c'è bene ehi, all'arentururica pure fa che mi sono augurio se è più su all'arenturica infatti, ciao e buona sera, buona consumazione ciao, è tanto frangurio che è una buona pasca a me, Furi mi ha detto che è a voi tutto, in attesa, da parte nostra ciao Furicca ciao, ciao, buona positiva bene, la positiva è Furicca Iurvi e Mario Giano Vesuni e sono bravissimo, sinceramente Mario Giano è un bravo, poeta per me ammettate, sei una bella poesia, una bannulla che devo fare un saluto, che devo salutare Antonello adesso è genuino, che devo salutare tanto hai scelto tutta la grande famiglia ciao Antonello, prepara mamma mia gara che vada chi se lo intende già vada un'altra roba telefonate, noi la diamo, sentitevi che stai pronta Alfredo, sono Ferdinando ciao Ferdinando, come ti stai? ciao, come state? ehi, piano piano, se prenderne ehi, mi è andato un uvaio che la connozzo questo Antonio Magia, ti vuol dire? eh? ah, ecco eh Antonio Conti, di Antonio Conti mi hanno detto a Gavoi che lui è nato a Gavoi vero, è Antonio? no no, mi hanno detto, c'è che tuo padre era carabiniero e a Gavoi sei nato lì è stato da voi è stato da voi è stato da voi, ma no, è stato a Portigale devo non schiacciare un papo va bene, lo stesso siamo stati anche allora, domani pomeriggio siete al civico ehi Antonio Magia è cosa? Antonio Caracchia è quello che suona ehi va bene e Alfredo deve presentare va bene, prenderà comunque alle quattro e mezza allora sono in ascolto stanno suonando e cantando bene eh e poi hanno andato ai nanti a domani bene a sentirvi ancora ciao per di notte buon ascolto a voi a tutti ciao 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 per di notte ciao guardate questo l'attereo cantante è sempre Simone dei capite il bravissimo organizzare una cosa sattra e e uno bianco di Portigale sui frate non lo conosco e io lo conosco e la s'accompagnata eh se io stai svelinando la trovarà di tesinata eh video che penso è arrivato eh 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 caso eh sovrano Giovannino caso io stavo in tesinata Ferdinando e è certo e beh devo salutare tutto a mano se minore sinceramente ed è una bella nuova per essere Sagobe terminate certo dedicato a tutti il mondo in trevo a chi ha telefonato a chi non può telefonare a Allegra Goro via a chi non può telefonare a Chi non può telefonare Buona notte rilascia Anima mia, come rilascia Almeno che ci sei Buona notte rilascia Anima mia, come rilascia Anima mia, come rilascia Sì, se parò l'olè E' se siedita in a istri che ha avuto pieno di sida Sì, mi separò non arrede Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti